Iniziamo da qui. Così toccando la fronte. Con movimenti lenti, delicati, quasi un massaggio, quasi un massaggio a una fronte. Così. Anche sulle sopracciglia, così, nettinate, delicatamente, con le dita. Io la trovo molto piacevole. Sì, molto molto piacevole. Ancora sulla fronte. Adesso facciamo dei movimenti in verticale. Così. Così. Per distendere delicatamente la fronte. Così. Così. Piano piano. Delicatamente. Così. Così. Va bene? È piacevole? Adesso facciamo dei movimenti di questo tipo. Così. 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 Piano piano. Così. Piano. Piano piano. Piano piano. Così. Piano piano piano. Allora. Scendiamo qui. per tagliare ogni pensiero, per far torsia, ogni traccia di tensione e di mal di testa. Sì perché è qui che quando si sente il mal di testa si sente pressione e allora facciamo con calma, con molta molta calma dei piccoli massaggi circolari bene, adesso un po' di questo tipo di movimento andiamo sempre qui su due tempi e mandiamo via mandiamo via questi pensieri adesso chiudi gli occhi e facciamo questo tipo di movimento sulle palpebre chiudi gli occhi chiudi gli occhi così 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 piano piano delicatamente molto delicato sui occhi sugli occhi che hanno bisogno di molta molta delicatezza come se li toccassimo con una piuma delicati come una piuma con questi occhi adesso possiamo fare una leggerissima pressione delicata come una farfalla chiudi gli occhi ancora chiudi gli occhi così 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 un po' una pressione delicata 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 come una farfalla come una farfalla ecco qua e adesso via 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 togliamo ogni tensione ogni tensione dagli occhi e lo togliamo togliamo ogni tensione dagli occhi come va tutto bene perfetto adesso andiamo a fare dei piccoli delle piccolissime impressioni attorno al contorno occhi che saranno pressioni molto molto delicate molto delicate una specie di di piccolo massaggio linfodrenante così aiutiamo i piccoli riconfiamenti di questa zona molto delicata e piano piano con questi piccoli movimenti piccole piccole pressioni aiutiamo a sconfiare questa zona perché quando dormiamo poco questo è un'area questa è un'area che soffre molto e quando siamo stagli lo vediamo soprattutto qui ma con questi piccoli piccoli massaggi con pressioni fatte come in sequenza ecco che gli occhi e i contornocchi si distendono e troviamo un palmo di riposo bene adesso andremo a toccare il naso da qui dal punto in cui si inserisce su una fronte fino al giù sulla punta quindi così e poi giù così e poi giù qui e poi giù questo è un altro punto molto rilassante qui questo e poi giù qui e poi giù qui e poi giù così più feroce così 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 adesso faremo questo movimento perché ci avviciniamo alle guance e quindi da qui passiamo a questo per aiutare a distendere anche i lati del naso quindi così 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 piano 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 delicati dal naso verso le cote dal naso verso le cote così ancora il naso dal naso verso le cote così adesso faremo un po' questo movimento sulle guacce è molto piacevole così è un piccolo molto purellare sì è molto molto piacevole soprattutto perché è fatto molto piano molto delicatamente e la pelle sembra quasi rigenerarsi è piacevole sta andando tutto bene bene adesso andiamo a fare pressioni più prolungate sempre verso l'esterno del viso quindi questo tipo di movimento allora ecco qua piano 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 verso all'esterno così così sempre delicatamente ecco qua ancora una volta e poi ecco qua ok adesso andiamo a fare questo tipo di movimento ok praticamente facciamo scorse le dita sulla pelle così è anche bello fare il suono questa parte sulla sinistra e da questa parte sulla destra come ti senti? tutto bene? ok adesso ti tocco un po' sulla parte sulla parte superiore del viso benissimo adesso andiamo a fare questo movimento per portare il su verso l'alto e così così su talmente fino a su su così ancora talmente fino a su così così e poi dalla bocca fino a su così dai fianchi della bocca fino a su dai fianchi della bocca così 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 ancora su così questo movimento verso talmente fino all'alto fino verso gli zigomi quindi da così verso l'alto piano 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 verso l'alto così 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 sì con tanta tanta delicatezza tanta delicatezza di qua anche su questo fianco destro va molto bene adesso qui e qui questo movimento sul labbro superiore e poi sotto il labbro inferiore così molto bene rilassa rilassa la bocca adesso così questo movimento abbracciato il labbro e andando verso l'alto così molto bene benissimo ok adesso il mento qui sul mento qualche leggera pressione così perfetto questa leggera pressione e poi anche qui che va verso l'alto così 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 dal centro del mento verso l'esterno asimmetricamente a destra e a sinistra perfetto molto bene molto bene molto bene molto bene dal centro del mento fino all'esterno piano 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 così 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 di nuovo su tutto il viso 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 così 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 ecco fatto chiudi gli occhi adesso chiudi gli occhi chiudi gli occhi e rilassati 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 grazie